Su il sipario, sulla 39esima edizione del Festival Spoltore Ensemble. La manifestazione, che si svolge in Largo San Giovanni, è stata spalmata su sei giornate, così da consentire a più persone di assistere agli spettacoli. A causa Covid, infatti, la capienza è limitata. Ogni sera potrà esserci un massimo di 200 persone sedute e distanziate. La kermesse è stata inaugurata ieri dall'attrice e vincitrice del premio David di Donatello, Laura Morante, con lo spettacolo racconto Brividi Immorali. Uno le colpe ce l'ha o non ce l'ha? E se ce l'ha, lo riconosce e se le tiene. A che serve tutta questa manfrina? Ora, non voglio essere cattivo, però per me il senso di colpa ha una funzione sola, che a forza di essere sensibile e di soffrire, invece di compatire quello a cui hai fatto un torto, finisce che compatisci solo te stesso e che ti piangi addosso e basta. Sul palco poi anche la musica del jazz trio. La proposta della manifestazione presenta elementi innovativi che sono la preparazione del terreno per la quarantesima edizione, ha commentato il sindaco Luciano Di Lorito.